È figlio del doppiatore Marcello Prando e dell'attrice Luciana Durante, a sua volta figlia d'arte. Suo padre era il celebre attore dialettale Checco Durante e sua madre l'attrice Anita Bianchi. Dotato di una voce calda, intensa ed espressiva, Francesco Prando è noto soprattutto per aver prestato voce a Luke Perry nei panni di Dylan McKay. In Beverly Hills 90.210, Eric M.C. Cormac nei panni di Will Truman in Will and Grace, Eric Dunn in Grace Anatomy e agli attori Keanu Reeves, a Grant, Matt Dion, Matthew M.C. Conway, a Jackman, Jason Statham, Michael Fassbender, Vince Von e Guy Perci in alcune significative interpretazioni. È la voce italiana di Daniel Craig, l'attuale James Bond, nel campo dell'animazione adoppiatori o agicaggi nell'anime Neon Genesis Evangelion. Ned Flanders, dalla quarta stagione. Nei Simpson, in sostituzione di Pino Insegno. Dark Pixie nel cartone animato Wings Club. Tra gli attori doppiati Will Smith, Bill Paxton, Dominique Purcelli in Prison Break, Colin Firth, John Cusack, Michael Catton in Jackie Brown di Quentin Tarantino. Tom Hanks in Salvate il Soldato Ryan, Nicholas Lea, Tom Foss, in Kylie XY e Matthew Morrison nel ruolo del professor Will Schwester nella serie TV Glee. Dal 1989 al 1997 è stato l'uomo con lo smoking, nelle campagne pubblicitarie dell'Olio Friol. Come attore è diventato più noto al pubblico interpretando il personaggio di Carlo Angione e la fiction incantesimo. Dal 2002 è lo speaker ufficiale di LA7. È anche la voce del format di Rai 2 La Storia Siamo Noi. Inoltre, dal 2011 doppia il personaggio di John Reise della serie televisiva Person of Interest, interpretato dall'attore James Caviechel. Nel 2014 vince il leggio d'oro alla migliore interpretazione maschile per il doppiaggio di Ralph Fieningrand Budapest Hotel.